E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Il 45 non si fa perdonare, non si fa pregare, anzi chiedo scusa, si fa perdonare e come per i palloni che non era riuscito a gestire in precedenza la prende con grande destrezza inglese, si gira e mette a segno la rete del 2 a 1.